Tramandato a te da Quauhtémoc, guerriero jaguaro di Tenochtitlan, un altro presagio, il lago attorno alla grande città di Tenochtitlan, Isondo. L'inondazione spazzò via molte case della città, trascinandole e risucchiandole nel lago. Accompagnai i dignitari a incontrare i nuovi arrivati. Viaggiammo verso la costa, attraversando le terre dei nostri nemici, i Tlaxcala. Quando uscimmo dalla foresta, gli stranieri ci salutarono, anche se tenevano strette le loro armi. Dissi loro che eravamo aztechi, i rappresentanti del grande Montezuma. Il loro comandante affermò che loro erano gli spagnoli e lui si chiamava Cortes, anche se sembrava felice quando ci riferivamo a lui come Quetzalcoatl. Nonostante le loro corazze e gli animali sembrassero di un altro mondo, non avevano l'aria di essere degli dèi. Regalammo a Cortes del cotone pregiato e le piume dei nostri volatili più belli, ma lui sembrava più interessato agli ornamenti in oro. Ci chiedeva ogni volta se c'era altro oro nella città di Tenochtitlan. A questo punto, Cortes aveva già visitato le terre dello stato di Tlaxcala. All'inizio gli spagnoli e Tlaxcala guerreggiarono tra loro. Tuttavia, quando Cortes sentì quanto era grandiosa la città di Tenochtitlan e quanti valorosi guerrieri aztechi avevamo, suggerì lo stato di Tlaxcala di unire le forze e attaccare gli aztechi. Non conosciamo le intenzioni di questi spagnoli. Per il momento il nostro nemico è lo stato di Tlaxcala. C'è un'aztechi. Sì Gli spagnoli stanno attaccando i nostri alleati a Tabasco Dobbiamo aiutarli Banno Banno Roba elo Mettete Banno Dessertate Ball Dessertate Matt Advertate Dessertate Sì, non è vero. I nostri corridori hanno confermato che gli spagnoli e il popolo di Tlaxcala si sono alleati contro di noi Adesso dovremo combatterli entrambi Ciò che rende tanto temibile l'esercito spagnolo sono gli animali che cavalcano in battaglia Se riuscissimo a catturare questi cavalli, gli spagnoli sarebbero una minaccia meno pericolosa Questo è il recinto in cui rinchiuderemo i cavalli presi agli spagnoli C'è un mato Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Oh, oh, vantelvone. Sì, vantelvone. 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 Oh, il vantelvone. Oh, oh, oh. Asco. Vantelvone. 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 Sì. Sì, non è vero. Bantelwon ... ... ... ... ... ... ... Ok 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 o o o i i i i i i i Ok, 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 ok. Oc 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 Cu Aksa Comando Che C'è via! C'è via! C'è via! C'è via! C'è via! Si, c'è via! Tu non passo ! Oh! Cool! Omanze! Vieryte! I mean, he didn't like a ship. I was going to pay off! The ship is gone! The ship is came out! Skirp's jump 6 break. The ship is gone. The ship is gone. I'm not there. I feel it! Sì, non è vero. Sì, non è vero. Grazie per la visione! Oc, bant, mantelmo, gomantze, cu, ok, cu Gomantze, ok, ikho, ansar Bant oder? No Oh No Oc? Ach zack! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 C'è un cuore. ma no ma no ma no ma no ma no Tochter Il Il No Grazie a tutti. 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 Adesso che abbiamo tutti i cavalli spagnoli, non potranno inviare i loro temibili cavalieri e conquistadores in battaglia. Abbiamo sconfitto gli abitanti di Tlaxcala e rallentato l'avanzata degli spagnoli. Ma temo che non sia ancora finita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. chi combatterono bene quel giorno, anche se erano impauriti dalle bestie che gli spagnoli usavano in battaglia e dal rumore delle loro armi esplosive. Nonostante fossimo sopravvissuti all'attacco, pensai che fosse meglio tornare a Tenochtitlan e informare l'imperatore Montezuma di tutto quello che avevamo visto. Non so se mio zio Montezuma fosse soltanto codardo, oppure volesse proteggerci dall'ira degli dèi, ma egli inviò altri regali a Cortés assieme all'invito di visitare la nostra grande città come suo ospite personale. Ero presente quando Montezuma incontrò Cortés su una delle strade maestre che conducono alla capitale. Evidentemente gli spagnoli non avevano mai visto niente di simile a Tenochtitlan. Si guardavano intorno meravigliati dai mercati variopinti e dalle piramidi realizzate sull'isola artificiale al centro dell'immenso lago Texcoco. Qualche soldato spagnolo si chiedeva se tutto ciò fosse solo un sogno, un'apparizione di cose mai sentite né viste e neppure immaginate. Montezuma invitò Cortés a salire con lui sulla cima della grande piramide, da cui indicò i numerosi canali e i vicinati della città. Ma Cortés era più interessato agli ornamenti d'oro e ne prendeva uno ogni volta che lo vedeva. Era ormai certo che quell'uomo non fosse Ketzalcoatl. Così dice Quautemoc, guerriero jaguaro di Tenochtitlan. Così dice Quautemoc. 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 Grazie a tutti.